Il trattore del Grifo prosegue il lavoro del Catania per preparare la gara casalinga di sabato prossimo contro l'Udinese. Anche oggi è in programma un allenamento pomeridiano a porte chiuse. Per abituare i calciatori al clima partita, il match con i bianconeri friulani avrà inizio alle 18. Dopo l'emergenza degli ultimi turni, Decagno può lavorare con maggiore serenità. Tornano infatti disponibili Spogli e Peruzzi ed anche Guarente sarà arruolabile dopo aver scontato il turno di squalifica. Per il tecnico rossazzurro c'è così la possibilità di studiare modifiche tattiche. In avanti va verso la conferma il tridente composto da Lopez, Checo e Castro che bene si è comportato a Napoli. Ancora abbiamo un'altra possibilità per andare via di questa brutta situazione. E credo che questa è una partita giusta per farlo e uscire alla fine di una situazione brutta che non aspettavamo. E quindi credo che sabato è un bel giorno per poter vincere. Una sfida delicata ed importante quella contro l'Udinese che il Catania dovrà cercare di vincere anche con l'aiuto del pubblico del Massimino. Lo so che magari non si aspettavano queste cominciazioni di stagione, però noi sappiamo che la possiamo fare per andare avanti. E quindi devono stare tranquilli che da qua alla fine ce la facciamo. Tra allenamenti e videotape, Rosso Azzurri a scuola nell'aula di Torre del Grifo per studiare l'Udinese di Guidolin e per analizzare attentamente quello che è andato e soprattutto quello che non è andato a Napoli. Nonostante l'assenza sicura di Totò di Natale e quella probabile di Muriel, i bianconeri di Guidolin sono un avversario da non sottovalutare. In realtà in questo periodo il Catania convalescente non può sottovalutare nessuno. Ogni partita rappresenta una finale, ma quella di sabato alle 18 al Massimino ha un valore strategico non indifferente per il proseguo della stagione. Siamo a casa, dobbiamo vincere per forza, è una partita che può marcare un prima e un poi di questa stagione. Credo che dobbiamo approfittare questa partita e fare lo meglio possibile. De Canio non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Un'ora di studio in sala video, più di due ore di fatica in campo. Poche le indicazioni tattiche sull'undici anti-Udinese, la sensazione però è che De Canio possa riproporre il 4-3-3 per valorizzare ancora di più le caratteristiche offensive di Maxi Lopez. Castro e Checo in questo senso sarebbero le spalle ideali per l'attaccante argentino in cerca del primo gol stagionale. In difesa pronto rientro Nicola Spolli, mentre a centrocampo in dubbio il greco Taxidis. Grazie. Grazie. Grazie.